No, no, sicuramente ci sta che la curva in questo momento ci fischia e penso che abbiamo fatto le ultime tre partite, tre sconfitte, quindi ci può stare. Però dico anche che abbiamo, ci è combattuto fino alla fine, che poi sono andato a vedere che anche con il pareggio non cambiava nulla. Quindi il rammarico è grande perché potevamo fare noi la partita in casa, però purtroppo andiamo a Ascoli con l'unico obiettivo, quello di vincere. Non abbiamo nessuno che ci giriamo intorno, dobbiamo andare lì con la consapevolezza di un secondo tempo che abbiamo fatto, secondo me, a mio parere, molto molto bene. Con l'allenatore noi siamo tutti uniti, ci sono delle partite che purtroppo si perdono a malo modo e noi non siamo questi delle ultime partite perché l'abbiamo dimostrato nel secondo tempo. Se ci mettiamo anima, cuore, atteggiamento penso che non ce ne sia per nessuno. Venerdì abbiamo la partita sperando che ce ne siano altre e dobbiamo andare lì con la consapevolezza di una squadra forte. e l'abbiamo dimostrato nel secondo tempo. Poi la cosa con l'allenatore, qualcosa nello spogliatoio, non c'è nulla. Purtroppo a malo modo abbiamo perso le ultime tre partite e dispiace. Io metto prima la faccia da capitano e sicuramente non andremo lì ad Ascoli con l'atteggiamento che abbiamo fatto il primo tempo. Sicuramente andremo lì con la consapevolezza di essere una squadra forte perché quando ci siamo stati l'abbiamo dimostrato. Quindi forse dobbiamo scattare questa molla a ognuno di noi, ci deve venire dentro. Non ci sarà nessuno che ci dirà ci può aiutare e deve venire direttamente da noi stessi dare qualcosa in più. Il nostro obiettivo oggi era vincere la partita e fare i playoff in casa. Purtroppo non ci siamo riusciti ma andiamo lì, come ho detto prima, a giocarci la partita. Penso che in questo momento, un po' negativo da parte nostra, che abbiamo perso queste ultime tre partite, ci dobbiamo tutti ricompattare perché è per il bene di tutti, di tifosi, di squadra, società, staff. Dobbiamo stare lì tutti uniti per un unico obiettivo perché qua non è che vince uno perde l'altro. Qua se andiamo bene vinciamo tutti. Quindi penso che in questo momento, questa settimana, dobbiamo stare tranquilli, sereni e preparare la partita nel migliore dei modi. Billy, guarda, secondo me, questa è una mia opinione, poi posso anche sbagliarmi, non è una questione fisica, secondo me è una questione mentale da parte di tutti. Quindi ci dobbiamo ricompattare, come ho detto prima, da grande squadra e dare questa scintilla in più. Perché quando l'abbiamo dimostrato con l'atteggiamento, con la coesione, tutti insieme, abbiamo dimostrato veramente che squadra siamo. Il rammarico è tanto, perché è tanto, perché noi non siamo questi delle ultime tre partite. Questo è poco ma sicuro. Io penso che quando possiamo noi mettiamo il nostro gioco sul campo e l'abbiamo dimostrato. Poi ci sono dei momenti che non puoi, come hai visto tu, hai detto tu, che Palleare invece di giocarla ha preferito calciare avanti. Forse non era la situazione adatta in quel momento di giocare da dietro, quindi una persona intelligente preferisce di fare un'altra cosa. Però penso che quando noi mettiamo il gioco da parte di ognuno di noi l'abbiamo dimostrato. Poi ovviamente quando riesci a sbagliare qualche passaggio, riesci a sbagliare qualcosa, forse c'è un po' di insicurezza e cambi. Però penso che noi un'identità ce l'abbiamo. Grazie. Grazie.